Per oggi a Pisa nonostante tutto complimenti ai nostri ragazzi perché comunque sia hanno giocato veramente bene, un bel calcio, tanta qualità, purtroppo peccato peccato che noi non meritavamo appunto un pareggio ma secondo me meritavamo appunto una vittoria. A mio avviso comunque abbiamo fatto tante azioni appunto pericolose, tante azioni gol ma non è entrata, delle volte mi sembrava una porta assolutamente stregata, non entrava nemmeno se levavamo il portiere. Mentre loro l'unica occasione appunto gol fanno proprio il gol, un tiro, un gol quindi ragazzi mamma mia ci vuole anche questione di C, fattore C sicuramente siamo stati poco fortunati perché comunque sia ci sono state più e più volte che comunque abbiamo appunto avuto delle azioni pericolose ma non sono entrate in porta. Però io che cosa posso dire? Io non posso assolutamente appunto parlare male dei miei giocatori, anzi gli faccio i complimenti per come hanno giocato, per quello che hanno portato in campo però molte volte spesso il giocare bene appunto del Perugia non va a dare appunto i punti di merito. Il che significa che comunque non significa che se tu fai un bellissimo gioco comunque sia vai a portarti i punti e la cosa più importante sono i punti e quelli che mancano nel senso che comunque sia con questo bel gioco ci siamo portati via dei punti in questo caso anche con il Pisa perché comunque sia andiamo a prenderci un punto quando dovevamo e potevamo prenderne tre. Questo è il gioco del calcio, la polla è rotonda però fatto sta lavorare, lavorare, lavorare sempre meglio perché siamo veramente sulla buona strada.